E' quindi per queste ragioni che ho appena illustrato che certe canzoni si possono sentire, altre non si possono sentire, perché sono sgradevoli, hanno un ritmo asimmetrico e non rispettano le leggi dell'armonia. Quindi va bene ascoltare Bach, potete ascoltare anche Poo, Baglioni, addirittura anche Gio di Tonno, ma non potete ascoltare per esempio i Derapage, proprio è una cosa terribile. Grazie e alla prossima volta. Oh, Maurizio, Maurizio, dimmi, 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 grande chitarrista, grande, grande, sei un grandissimo, dimmi, dimmi, dimmi. Cosa? Ah, vieni da me, mi righi la macchina in senso orizzontale e verticale, addirittura, e mi ci segna anche le definizioni, fai proprio un cruciverba sulla macchina, addirittura? E allora, aspetta un secondo, aspetta un secondo che finisco una cosa che stavo facendo, scusa, eh? Grazie. E potete ascoltare anche i Derapage. Io ti amo perché sei una scimmia di mare, fai cacare. Ehm, mamma mangù. Grazie.